guarda qui c'è gente e li portiamo e paradossalmente aspetta un istante che mi sa che ci siamo dai alla fine c'è 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 che tuttora a volte prendere il nemico ovviamente avevano messo male un po' le cose quindi diciamo non si è capito molto cosa ci fosse sembrerebbe allora andranno a scavare che è questa qua che è molto particolare aspetta che ve la faccio vedere non la planima e poi ti faccio pubblicità grande grande mi sono pensi sono i bruci 6 e hanno cominciato a pulire ok per favore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti